Soleil sorge nuova naufraga dell'isola dei famosi. La partecipazione al reality dell'influencer ha portato alla dura reazione di Alex Belli. Soleil sorge non si ferma più. Dopo aver preso parte come concorrente al GF VIP e come giudice alla pupa e il secchione, l'influencer cresciuta negli Stati Uniti ha accettato la proposta di diventare una protagonista dell'isola dei famosi. Per lei si tratta della seconda partecipazione a questo reality. La prima risale al 2019, esperienza che ha fatto molto parlare per la sua relazione nata sull'isola con Jeremias Rodriguez, fratello di Belen, e finita qualche mese dopo. La notizia di Soleil all'isola dei famosi non poteva non provocare una reazione di Alex Belli, che, dopo la chimica artistica all'interno della casa del grande fratello VIP, non è rimasto in buoni rapporti con l'influencer. In diverse interviste entrambi, infatti, hanno confermato di non sentirsi più dalla fine del reality condotto da Alfonso Signorini. La partecipazione di Soleil all'isola dei famosi è stata commentata in modo molto duro da Alex Belli. Se ci manchi? No, non ci manchi assolutamente, ha scritto l'attore sui social, sei una incoerenza e pazza. Vuoi una bella newsflash? Dei tuoi click non me ne frega niente. C'è una verità pura, io non ho nulla contro di lei, ma tutte le volte leggo cose in cui dice di dissociarsi e di non voler far parte del mondo trash. Ma ha fatto sei mesi di trash televisivo, ha continuato Belli tutte le volte che rinnega questa roba vado fuori di testa. Poi per il resto voglio bene a questa ragazza. Si a parte queste cose che dice non le condivido, non c'è niente di serio. Io faccio il circense, cioè fare intrattenimento. Vedremo se questo post sarà riportato nella prossima puntata dell'Isola dei famosi a Soleil e quale sarà la reazione dell'influencer italo-americana.